Mandi e benvenuti a Un Vino in un Minuto di Storia di Vino e di Friuli Venezia Giulia. Oggi andiamo sulle colline di Butrio a conoscere questo Re Fosco 2012 della Giostra del Vino. Il Re Fosco è un regnante gentile, premuroso, che sa che deve far stare avanti gli altri per poter far vedere se stesso. È in grado con la sua timidezza di mostrare la sua forza e col tempo di esprimere la sua gentilezza e la sua grazia. Certo, si nasconde e va cercato, un po' come il Friuli. È un vino che, se fosse un libro, sarebbe Cent'anni di solitudine, di Gabriel Garcia Marquez. Se fosse una canzone, sarebbe One Step Beyond, dei Madness. E se fosse un film, sarebbe Carne e Trebula, di Pedro Almodovar. La sua classificazione è 9.2. Questo è un vino che racconta molto del Friuli, proprio perché tace. Il silenzio è la lingua ufficiale di questa Terra. Ciao!